Giuseppe, 28esima edizione del premio SILA, dove si terrà? Sì, quest'anno, seguendo una formula itinerante, faremo tappa in quel dispeziano della SILA presso il complesso monumentale dedicato a San Francesco di Paola e quindi abbiamo accolto l'invito di questa locale amministrazione che poi è tra i partners istituzionali del progetto, che quest'anno appunto giunge alla sua 28esima edizione. Il 9 quindi di novembre l'appuntamento, dobbiamo anche aggiungere che ci sono premiati un po' differenti dagli altri anni. Sì, come ogni anno premiamo 9 eccellenze calabresi che sono distinte a livello nazionale e internazionali ne cito giusto qualcuno, dal presidente attuale italiano dell'Unicef, dottor Samenco a Pippo Capellupo, presidente dell'Umbri, ma anche degli ostelli della gioventù in Italia passando per il Cosenza Calcio, per premiare come facciamo ogni anno lo sport che sceglie le nostre qualità turistiche, mappure le sorelle Granata, la stessa zona di Lorenzo il regista Alessandro Grande, vincitore del David Donatello, è prossimo rappresentante ai premi Oscar per quanto riguarda i cortomessaggi per l'Italia e così, come ogni anno, ripeto, sono eccellenze. Anche il dottore Perri? Il dottore Perri che è un medico del posto, primario dell'ospedale di Cosenza quindi individuato e scelto dalla locale amministrazione. Una bella scommessa vinta? Sì, una scommessa vinta che si ripete, non è facile in Calabria arrivare a 28 anni quindi vi aspettiamo il venerdì, è un venerdì storico ormai da diversi anni puntiamo sull'autunno, venerdì 9 novembre alle ore 17 a Spezzano della Sila.